E bentornati. Oggi parliamo della mia esperienza di circa tre mesi, tre mesi e mezzo con la Sony A6700, la vedete qui nelle mie mani. Ho usato questa fotocamina in questi tre mesi, l'ho usata per praticamente tutto quello che mi è capitato. Paesaggi, naturalistica, macro, feste, eventi in generale, street photography, ritratti, alcune cose non ve l'ho potuto dimostrare perché sono cose che i soggetti non hanno voluto che mostrassi in video, per cui non avete visto proprio tutto, ma l'ho usata in tantissimi, tantissimi ambiti. E come avete potuto capire dal titolo del video e dal thumbnail, sostanzialmente non mi ci trovo, non mi ci sono trovato e sto vendendo tutto il mio corredo Sony. In questo video capirete il perché sto vendendo il mio corredo Sony e capirete anche che non ho nulla contro Sony, Sony APS-C in generale. E' semplicemente una scelta mia, personale, relativa al mio modo di utilizzare le fotocamere, il mio modo di apprezzarne le qualità. Partiamo dal punto sostanzialmente più ovvio. L'autofocus della Sony A6700 è spettacolare. Come tutte le Sony moderne ha un autofocus eccezionale. Ora non so se Canon e Lello di Sony, migliore o peggiore, cambia poco. Sony ha un autofocus veramente, veramente impressionante. Date per scontato che la foto sarà a fuoco in praticamente qualsiasi situazione. Certo, in fotografia naturalistica non sarà sempre, sempre, sempre a fuoco. Ci sono comunque degli scatti che ogni tanto si cannano. Ma quello è normale, però la quantità di scatti a fuoco in una raffica è altissima. E difficilmente l'autofocus scazza di brutto. Per cui avrete sicuramente una quantità di foto a fuoco decisamente altissima. Potete poi scegliere sulla base del vostro gusto personale quella che vi piace di più, ma potete dare per scontato che nella stragrandissima maggioranza dei casi l'autofocus sarà preciso, veloce e puntuale. E questa cosa è fondamentale. Al giorno d'oggi noi, sì, qualcuno scatta in mano il focus, soprattutto in paesaggio. Qualcuno si accontenta ancora di autofocus un po' più vecchiotti. Ma mediamente siamo tutti portati ad aggiornare le nostre fotocamere per avere l'ultimo autofocus possibile. E con Sony andate sul sicuro. Autofocus è assolutamente spaziale. Non c'è altro da dire. L'unica cosa che non mi fa impazzire è la mancanza del joystick, ma ne parliamo poi dopo, e il fatto che la gestione delle aree di messa a fuoco non è comoda come quella di Fuji, dove io sostanzialmente giro una ghiera e passo da un quadretto di dimensioni minuscole all'intera area con un'estrema facilità senza dover entrare nei menu o nei quick menu e cambiare le cose da menu. Questa cosa è un po' più macchinosa su Sony, è un po' meno flessibile. Ma è anche vero che alla fine l'autofocus di Sony è pensato per essere usato in modalità wide tracking, quindi alla fine dei conti. la gestione un pochino più granulare dell'autofocus non è proprio una delle principali preoccupazioni di Sony. Detto questo, a me piace avere un po' più di controllo, quindi magari sono abituato, e quindi quella possibilità un po' mi manca. Parlando di qualità di immagine, noi abbiamo una fotocamera che è minuscola e parleremo del corpo della fotocamera in un attimo, ma la qualità di immagine che tirate fuori da questo sensore è veramente, veramente ottima. Ora, è chiaro che la qualità di immagine quando si parla di fotocamera dipende più dall'obiettivo che ci si monta davanti piuttosto che dal sensore, soprattutto oggi che i sensori difficilmente sono sensori che non producono belle immagini e quindi in questo caso il 26 megapixel che avete sulla Sony vi garantisce delle ottime immagini con la giusta lente è nitido, si ha un'ottima gamma dinamica gestisce benissimo tutto quello che riguarda l'immagine e vi dà un'immagine molto malleabile anche in post-produzione post-produzione che però è più necessaria di quello che io faccia con Fuji e arriviamo al punto in cui parliamo della color science dei colori capisco che per tanti l'argomento colori sia un po' una stronzata perché mi direte va bene, scatti in RAW poi fai l'editing lo fai diventare quello che vuoi è assolutamente vero ma è anche vero che siccome le fotocamere importano nei software di editing del RAW le impostazioni che tu hai dato già anche per il JPEG quello che succede è che io avendo imparato con Fuji come gestire le pellicole in maniera personalizzata ed essere arrivato al punto in cui io sostanzialmente il JPEG lo potrei tranquillamente usare uso il RAW e lo modifico giusto perché sono un perfezionista ma il JPEG è già usabile mi dà già un punto di partenza sul RAW nel software di editing che mi fa perdere molto meno tempo rispetto a quello che faccio con Sony non dico che i colori di Sony facciano schifo non dico questo semplicemente che è probabilmente dovuto al fatto che io scatto Fuji da 13 anni da quando l'X100 è uscita quindi ci sono abituato sono probabilmente non proprio oggettivo da questo punto di vista perché obiettivo scusate da questo punto di vista perché il mio passato di 13 anni con Fuji sicuramente ha un peso in tutto ciò lo dico molto molto apertamente dal punto di vista dei colori preferisco 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 Fuji ora questo è un motivo per cui vendere o non comprare Sony assolutamente no assolutamente no non è un motivo valido di per sé per fare una scelta del genere un altro ambito dove Sony sicuramente è il leader di mercato è il video non tanto dal punto di vista dei colori ritorniamo al discorso di prima i colori su Fuji per me sono più piacevoli anche in video forse soprattutto in video perché io odio girare in log e poi andare a fare il color editing con Fuji ho trovato il mio centro di gravità sulla sulla impostazione della fotocamera e uso nel 99% dei casi il file con i colori già applicati in camera mi permette di risparmiare una marea di tempo ma al di là della questione dei colori l'impostazione di una fotocamera Sony per quanto riguarda i video è eccezionale al di là dell'interfaccia vera e propria anche il menu specifico del video il quick menu del video che è eccezionale ci sono alcune chicche che permettono di renderci le vite più facili vedi con la possibilità di fare il fine tuning della dell'otturatore sulla base delle luci artificiali che ci sono permette questo di evitare quel flickering delle luci fastidiosissime non dovete andare a cercare voi la velocità di shutter speed necessaria premete un tastino Sony fa la scansione e vi dà una frequenza che è perfetta per evitare il flickering ora questa che può sembrare una stronzata in realtà se fate matrimoni se siete in ambiti chiusi dove le luci sono artificiali per lo più e sono ogni tanto economiche quindi con un flickering evidente o difficili da andare a individuare beh in quel caso vi aiuta veramente veramente tanto ma non è solo questo quello che fa della 6.7 di Sony in generale un ottimo sistema per video sono anche gli obiettivi gli obiettivi anche quelli aps-c anche i non-g ma soprattutto i g sono obiettivi che seppur sono obiettivi fotografici sono perfettamente ottimizzati per il video dall'apertura decliccabile dal fatto per esempio che con lo zoom 1655 si può zoomare con estrema facilità dando quasi l'impressione di avere un power zoom per quanto è ben tarata la la forza necessaria e il fatto che non cambi il fuoco o comunque il fatto che il fuoco cambia lo viene corretto prima che l'occhio se ne possa accorgere quindi in generale è un sistema che permette di avere prestazioni video ottime con estrema facilità e questa cosa è da non sottolodare anche lo stabilizzatore secondo me nell'A6700 è un po' migliore dello stabilizzatore delle Fuji per video per le foto bisognerebbe fare dei test molto approfonditi ma non me ne frega assolutamente niente ma per video sicuramente si nota quando si cammina si fanno delle diciamo scene a mano libera lo stabilizzatore Sony soprattutto con l'Active Steady Shot sicuramente ha una marcia in più poi ci sono delle funzioni tante altre funzioni in più che permettono a Sony di essere diciamo una videocamera fatta finita dall'altra parte è una sorella di una cinema camera come la FX30 e quindi chiaramente diciamo parte bene ecco da questo punto di vista abbiamo 4K60 non croppato 4K120 con il crop tutto quello che ci può servire i 10 bit abbiamo un sistema veramente completo che rende veramente facile girare video con questa fotocamera in più ci sono io non ce l'ho ma l'intelligent hot shoe mi ricordo come si chiama l'elettronico insomma il fatto che si possono montare con contatti elettronici anche i microfoni qui senza dover avere fili eccetera eccetera sono un vantaggio aggiuntivo che non tutti hanno anzi credo che ce l'abbia solo sony non ne sono estremamente certo ma credo che ce l'abbia solo sony dal punto di vista del corpo macchina abbiamo a che fare con un corpo macchina lo vedete è minuscolo molto piccolo ecco sicuramente vi lascia un attimino il mignolino un pochino fuori però chiaramente se vogliamo la combattezza qualcosa resterà fuori diciamo da questo punto di vista non si possono fare miracoli però un fotocamera che ha tutto mi piace tantissimo l'impostazione di questa ghiera dei modi col fatto di poter avere le customizzazioni che sono separate fra video e foto in modo tale da non dover impazzire e quindi veramente un sistema per quanto sia piccola una fotocamera molto intelligente altre ghiere una qua davanti una qua dietro e una qua per poter impostare i parametri del nostro triangolo di disposizioni veramente veramente tutto come dicevo prima manca il joystick che è un problemino non di poco conto ma ne parleremo fra poco ma al di là di questo non c'è molto di che lamentassero batteria eccezionale lo stabilizzatore le connessioni ci sono tutte sì sono tutte su un lato e la HDMI quella piccolina è la micro HDMI va bene però stiamo parlando sempre di una fotocamera molto compatta lo slot di memoria è uno slot solo SD anche lì è una fotocamera molto compatta va bene non è qualcosa per cui stracciarsi le vesti abbiamo poi uno schermo tiltabile che diventa anche selfie eccetera eccetera in generale quindi una costruzione veramente buona l'impugnatura è molto comoda e sostanzialmente è una bella fotocamera e quindi sostanzialmente vi starete chiedendo Luca ok ma finora ne hai parlato soltanto bene perché la stai dando via perché ci sono alcune cose che per me fanno una differenza abissale e nel parlarvi del corpo macchina vi ho accennato il joystick ma ho volutamente omesso di parlare dello schermi tanto del v-find elettronico quanto dell'LCD posteriore lo avevo già accennato nel mio video di prima impressione però nell'utilizzo giornaliero ritengo che l'assenza del joystick il mirino elettronico e lo schermo siano le cose che in realtà mi fanno insieme ai colori mi fanno considerare questa camera come non mi ispira ad usarla l'ho usata mi sono forzato ad usarla per fare le recensioni per prenderci confidenza per capire se era un sistema che potesse andare bene per me ma in realtà se non avesse avuto la pressione di dover fare le recensioni fare tutto questo avrei comunque sempre scelto di usare le mie fuci perché perché il mirino elettronico è piccolo ma al di là del piccolo non è un problema di risoluzione è scomodo da guardarci dentro una cosa che per quanto mi riguarda è veramente fastidioso l'ho già accennato in altri video è veramente fastidioso il mio occhio si affatica con una velocità impressionante e non è e non è una cosa positiva dipende da cosa si fa magari stiamo ore con l'occhio dentro il mirino e se l'occhio si affatica subito dobbiamo togliere l'occhio dal mirino farlo riposare magari ci perdiamo una foto importante magari ci perdiamo un momento importante e questa cosa ha un peso e si potrebbe pure pensare di dire vabbè il mirino è piccolino d'altra parte come detto prima Luca è una camera compatta da qualche parte devono risparmiare spazi e lo capisco tra l'altro a me piace pure questa impostazione col mirino di lato in modo di avere il naso libero e quindi dici vabbè ok il mirino è quello che è magari lo usi solo quando ti serve usi lo schermo posteriore sì lo schermo posteriore è usabile ma anche lì se tu mi fai una fotocamera con un mirino diciamo sottodimensionato non comodissimo da usare mi devi dare uno schermo posteriore della madonna e purtroppo non è così è uno schermo posteriore che è inferiore a tutti gli schermi per esempio delle Fuji di nuova generazione inclusa l'XS20 che è sostanzialmente la sua diciamo competitor e quindi dal punto di vista della piacevolezza dell'utilizzo se io penso a un occhio che si affatica uno schermo che non è un granché la mancanza del joystick che per il mio modo di scattare comunque è una mancanza che si senti per esempio per spostare il punto di messa a fuoco devo premere il tasto centrale qua e poi muovermi di lato non è la stessa velocità che con il joystick non è qualcosa di dedicato a quello è un pochino complesso da fare in più ci si aggiunge che i colori a cui sono abituato non riesco a riprodurli in camera con questa mi ha fatto pensare che probabilmente non è la fotocamera per me in più aggiungeteci pure che sebbene la possibilità di obiettivi per il sistema Sony sia infinita mi piace di più per le foto per le focali che uso la resa degli obiettivi di Fuji c'è qualcosa magari l'abitudine ma c'è qualcosa in quegli obiettivi che mi dà una piacevolezza diversa quello i colori l'utilizzo della fotocamera eccetera eccetera mi hanno fatto capire che alla fine dei conti questa fotocamera con questi obiettivi sarebbero rimasti al di là delle recensioni sarebbero rimasti sempre e comunque a casa perché con me porto sempre le mie Fuji e quindi per me mantenere un sistema PSC Sony non ha alcun senso ma sottolineo due parole per me non vi sto dicendo che il sistema PSC Sony è una merda tutt'altro ve ne ho parlato bene fino agli ultimi tre minuti di video vi sto dicendo soltanto che per quella che è la mia esperienza preferisco usare il sistema Fuji nonostante per esempio abbia un autofocus inferiore a quello del sistema Sony preferisco quel tipo di problematica chiamiamola così in realtà non stiamo parlando di differenze abissali ma la differenza c'è ha una problematica relativa al fatto che non mi piace usare tanto la fotocamera quello sono io magari per voi è l'esatto opposto magari per voi avere l'autofocus sempre perfetto vale qualsiasi sacrificio si possa fare non vi posso dire che sbagliate perché per fortuna siamo tutti diversi per cui il mio consiglio è se siete curiosi andate ormai tutti i marchi fanno Sony Day Canon Day Fuji Day andate provatele vi renderete conto abbastanza rapidamente se un'impostazione di una fotocamera può fare per voi oppure no ad oggi abbiamo questa possibilità sfruttiamola non lavoriamo sempre di preconcetti non andiamo per forza su Fuji perché Luca Pedralieva ha detto Fuji o non andiamo per forza su Sony perché tutti i creator hanno Sony non andiamo su Canon perché Peter McKinnon ha proviamole magari quello che per Peter McKinnon va bene per Giovanni Anfuso non va per niente bene abbiamo questa possibilità sfruttiamola d'altra parte oggi trovare sistemi scarsi è complesso dovete cercare veramente bene per cui non avete motivo di pensare che scelendo un marchio piuttosto che un altro avrete un sistema schifoso i sistemi saranno tutti buoni si tratta di differenze minime e un'altra cosa mi ha fatto pensare che era il tempo di mollare il mio sistema Sony è stato il fatto che finalmente ho editato un matrimonio che avevo fatto a settembre prima di prendere la fotocamera prima di prendere il sistema Sony e rivedendo le foto mi sono piaciuto veramente veramente tanto tutto scattato con XH2 e XH2S e ho cominciato a pensare che siamo sempre alla ricerca di qualcosa di meglio quando in realtà il meglio lo abbiamo già in casa perché vi dico che di quegli scatti fuori fuoco ne avrò avuti il 5% 6% capisco che il matrimonio non sia l'ambito in cui l'autofocus è più sotto stress ma alla fine la resta dei colori mi piace di più l'autofocus comunque è andato bene ho un feeling che non ho con la Sony quindi la mia scelta mi è sembrata del tutto naturale ma ripeto io scatto Fuji da 13 anni magari per qualcun altro non sarà così vabbè vi ho tediato abbastanza direi che per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere nei commenti se ho tralasciato qualcosa se avete dei dubbi se avete qualche domanda sono lì per quello tendo a rispondere a tutti credo se ne siete accorti va bene ciao